E adesso andiamo a Torre Maggiore, in provincia di Foggia, per scoprire tutti i segreti dell'oro verde di Puglia. Il nostro olio extravergine viene prodotto con la cultivar peranzana, che è una varietà autoctona, prodotta qui in un triangolo della Capitanata. È una varietà molto pregiata, perché ha la duplice attitudine a produrre non solo olio extravergine di qualità, ma anche olive da mensa. La raccolta in genere avviene tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Noi in genere la raccolta l'anticipiamo, proprio perché in questo modo le olive sono più verdi e riusciamo a produrre un olio dalla colorazione più verdastra. Appena dopo la raccolta, le olive vengono conferite in frantoio e vengono molite nella stessa giornata, questo per preservare la qualità dell'olio extravergine che viene prodotto. Il mezzo di frangitura che noi utilizziamo è a martello e a coltello. A questo punto l'olio extravergine viene introdotto in una cisterna e portato in sala di confezionamento, dove avviene un'altra lavorazione molto importante, che è quella del filtraggio. Volendo fare un'analisi sensoriale del nostro olio extravergine di Peranzana, possiamo dire che alla vista si presenta con un colore verde limpido, all'olfatto si presenta con sentori di pomodoro acerbo, carciofo ed erba falciata, mentre al gusto si presenta con note spiccate sia di amaro che di piccante. In realtà queste caratteristiche dipendono molto dall'annata, l'intensità dell'amaro e del piccante dipendono dall'annata. Quest'anno diciamo è un amaro, è un piccante equilibrato. Insomma il nostro olio è l'ingrediente perfetto, è un prodotto adatto a condire qualsiasi tipo di pietanza.